buongiorno da bike house varese con stefano ciao come stai tutto bene bene dai bene oggi è una bella giornata quindi magari riusciamo a combinare qualcosa di positivo assolutamente sì stefano allora ho avuto modo nelle scorse settimane settimana scorsa hanno fatto in specie di provare la novità asa su bmwgs adventure tu qui sei di fronte a un'altra versione a un altro modello che comunque ho provato grazie alla vostra disponibilità e devo confermare tutto quello che ho detto su adventure per cui la mia scelta ricadrebbe su questa versione dimmi come è stata recepita quali sono i vantaggi che tipo di sensazioni avete dopo qualche breve giorno in cui l'avete a disposizione allora senz'altro una novità quindi come tutte le novità va capita va provata e va bisogna riuscire a trovare un contesto per quelle che sono tutti questi giorni un contesto per gli aggiornamenti che giustamente le case madri propongono ai clienti sempre nell'ottica di evolversi allora asa questa parola che sta a indicare automatic ship assistant la prima cosa che salta all'occhio è che manca un pezzo non le vanno leva zero leva zero leva zero leva frizione quindi bmw che cosa ha fatto per gs 1000 3 gs 1000 3 adventure ha creato un sistema dove c'è un'assistenza alla cambiata che può essere o completamente automatica quindi automatizzata dal sistema implementato da dagli ingegneri tedeschi oppure sempre appunto senza l'utilizzo della frizione abbiamo una sorta di cambio sequenziale quindi comunque c'è un input da parte del pilota per avere una cambiata precisa pulita come come appunto si confà con un mezzo del genere allora ho fatto questa posizione perché alla fine uno pensa ma è come lo scooter stanno rivoluzionando il mondo delle moto verso il peggio no no assolutamente no voglio tranquillizzare tutti è un cambio manuale a sei marce quindi la manualità è rimasta nel nel fatto che comunque il pilota va ad effettuare appunto una cambiata con il piede come sempre fatto l'automatismo sta nel fatto che la moto reagisce appunto in maniera automatica a quella che è la cambiata perfetta l'altra cosa che la moto può può fare ci permette di fare ma avendola provata l'hai provata appunto tu sulla tua pelle è gestire completamente in autonomia tutto il tutto il reparto cambio diciamo così ok quindi non abbiamo più il discorso della frizione in partenza non abbiamo più il discorso della frizione in arresto possiamo effettuare cambiate appunto senza l'ausilio della frizione anche a un numero di giri leggermente più basso di quello che ci consentiva di fare il cambio elettro assistito o quick shifter via dicendo e la cosa proprio intelligente che alla fine nelle situazioni magari anche partenza in salita o la moto esageratamente carica situazioni comunque dove devo giostrarmi nello stretto bene o male o vado a lavorare con una sola mano mentre la mano di sinistra bene o male bella salda sulla manopola e la moto fa tutto da sola fondamentalmente certo è assolutamente immediato ha bisogno questo lo dico perché è giusto che sia così no devo cercare di trasmettere agli amici che poi verranno a provarla il fatto che è comunque una modalità che ha bisogno di un minimo di adattamento no da parte di chi la guida per cui è anche bello che sia così cioè il fatto di scoprirla il fatto di avere comunque delle reazioni assolutamente più vicina alla sensazione di un cambio come dicevi tu manuale cioè scordatevi lo scooter ragazzi non venite qua pensando che stefano e isa vi facciano e robin facciano provare uno scooter no è una gs a tutti gli effetti e secondo me per un'ampia fascia di utilizzo vale la pena di veramente riprendere in considerazione assolutamente sì come dicevamo si va sempre avanti si va sempre ad innovare bene o male le novità all'inizio sono sempre percepite con un po di di remure con un po di paura magari in alcuni casi no hanno snaturato completamente la moto hanno fatto una cavolata astronomica proviamola proviamola venite a provarla a varese c'è disponibilità della versione gs a como grandate c'è la disponibilità della versione adventure provatela perché in una mezz'oretta una ventina di minuti fate capite si capisce subito perché bene o male crea subito delle dinamiche ma è anche un feeling abbastanza veloce e di conseguenza è un qualcosa che va provato perché è molto meglio di quello che si possa pensare io l'ho provato e sono rimasto piacevolmente impressionato assolutamente sì ragazzi io ve lo confermo perché il mio lavoro è quello di cercare di portarvi le novità che i concessionari hanno a disposizione per questo che fanno io ti ringrazio infinitamente grazie a te fate un salto provare indirizzo comunque numeri insomma impressione ma penso ci sia poi magari da passare dal portale o vengono direttamente ormai sei esperto allora sì c'è sempre a disposizione il sito di bmw motorrad test ride now scegliete appunto la sede varese o grandate a discrezione appunto della sede c'è la disponibilità di una versione o dell'altra scegliete la data scegliete la fascia oraria a noi arriva una segnalazione vi ricontattiamo per la conferma dell'appuntamento ok per me o ragazzi neanche da dire scegliete o varese o come o grandate ok grazie a te un caro saluto